Si chiama Puglia Perlage e si tratta della rassegna regionale dei vini spumante, evento che l'Associazione Italiana Sommelier Puglia ha organizzato a Mesagni. Sentiamo come è andata. Le bollicine rappresentano un'altra bella espressione della Puglia vitivinicola che sta dando tanto successo sia qualitativo e anche numerico perché sono tante le cantine che si stanno affacciando. A questa terza edizione abbiamo raggiunto il numero di 42 cantine, quindi un numero importante che va ad abbracciare tutto il territorio pugliese. L'esordio è stato soddisfacente. Questa prima edizione ha visto sul palco tre colleghi molto bravi. Noi come Associazione Italiana Sommelier siamo convinti che la Puglia meritasse un ambasciatore dei vini del territorio. Perché? Perché il livello qualitativo della colleghienza sta crescendo, il livello qualitativo dei vini altrettanto è molto in crescita e quindi meritava qualcuno che li andasse a raccontare. Credo che siamo sulla strada buona.